in tutti i luoghi in cui diciamo in questo momento si gestiscono stati di crisi dell'erta ci sono molti operatori ma anche molti utenti che devono mangiare quindi ci sono laboratori e cucine che stanno lavorando al servizio di utenti operatori protezione civile forze dell'ordine anestesisti rianimatori dobbiamo garantire alimenti sicuri e gli alimenti non sono veicoli di questi virus ci sono altri tipi di virus che si veicolano con gli alimenti ma sicuramente non i coronavirus e questa è una cosa molto importante perché una domanda e spesso fanno questo non vuol dire che dobbiamo essere superficiali quindi i cibi vanno sempre lavati e igienizzati bene bisogna assemblare dei pasti caldi o freddi che avevano dei requisiti di genere importanti quindi io consiglio anche in questi laboratori attrezzati ad hoc per dar da mangiare a queste persone oppure cucine diciamo che stanno supportando l'attività di tutti quanti sono al servizio della salute pubblica in questo momento di utilizzare protocolli di sanificazione analoghi a quelli che si usano in luoghi sanitari piuttosto che in luoghi pubblici quindi panni monouso detergenti igienizzanti disinfettanti vapore e ozono in questo momento dobbiamo far uso di tutte le tecniche le tecnologie e i metodi di cui siamo stati dotati formati addestrati perché siamo in un momento dove la parola igiene sicurezza diventa prioritaria sia per proteggere gli operatori sia per garantire luoghi in cui gli operatori possono fare la differenza nei confronti dei pazienti dei malati degli utenti